il gran rientro sta beverando quattro auto quattordici persone siamo a Zonfolo Schioppo abbiamo una New Entry che rende il gruppo internazionale ecco la Spagnola Miri mi, mi, pezzo oh, i rientri è film, è ovvio che è film c'è chi si nutre dopo aver bevuto ecco Danilo ma il gruppo dei dispersi stanno arrivando troppo forte sì, sì sì, è vero l'acqua è poca ma l'ambiente è comunque notevole ecco arrivare un pezzetto un pezzetto del gruppo abbiamo anche il lachetto guardate guardate vi facciamo pure ecco 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 agglo c ma Grazie a tutti. Questa bella discesa d'acqua in un contesto sicuramente molto, molto carino. La paleontologa! Grazie a tutti. 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 Guardate che se uno guarda in alto è veramente impressionante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.